È una trilogia di teatro al femminile, si parte con Cassandra il 26 ottobre alle ore 21 al Teatro Nuovo a Varese e poi ci sarà Elena e infine Antigone. È una trilogia che vuole esaltare la grandiosità, la bellezza della tragedia greca e vuole svelare la resilienza di queste tre figure mitiche, meravigliose, da Cassandra, Elena, Antigone. Vuole rivalutare anche la figura al femminile. Se pensiamo a Cassandra, per esempio, Cassandra è la profetessa inascoltata, con lei che per non sottostare al volere di Apollo non sarà creduta da nessuno, pur avendo straordinarie capacità nel vedere oltre, nel vedere gli orizzonti. E fa un appello al popolo e dice siate prudenti, fermatevi finché siete in tempo. E io trovo questa frase quanto mai attuale, fermatevi finché siete ancora in tempo. La trilogia vuole, oltre ad esaltare la grandiosità della tragedia greca, vuole proprio restituire dignità alla donna. Teatro Blu si vuole battere per la parità di genere, lo fa attraverso questo progetto Donne e Mito.